Buongiorno a tutti, sono Gerardo Bonomo e oggi mi trovo non nella mia solita residenza come potete notare non ci sono luci strane ma mi trovo in un punto vendita di Minano foto ottica Cavour che sta nella ridente via fate bene fratelli facilmente raggiungibile dalla fermata della linea 3 monte napoleone e anche compatibilmente in automobile e in presenza di Niccolò Di Benedetto non ci possiamo stringere la mano ma più che altro perché non siamo veramente amici non è una questione ci conosciamo da qualche giorno ci conosciamo da qualche lustro allora foto ottica Cavour voi avete già visto e sentito in tanti miei video io raccomando sempre le persone quando vogliono acquistare una nuova fotocamera e non solo ad affidarsi innanzitutto ai negozi di fotografia italiani tradizionali che poi possono avere anche un sito e commerce e di guardare come ultima thule tutto l'allegro mondo diciamo dell'e commerce internazionale senza contare fra i vari piccoli dettagli sono incappato io recentemente volutamente un ordine che non ho potuto esimere ogni da fare dalla Gran Bretagna per un valore di mercato di un oggetto costava 30 euro al pubblico ho pagato 18 euro non di spese di trasporto ma di spese di sdoganamento quindi ci sono anche alcuni paesi extra c dove al ipotetico interessante prezzo di destino adesso bisogna aggiungere anche oltre spese di trasporto delle spese di sdoganamento non indifferenti tutto questo chiaramente se andiamo nei negozi tradizionali di fotografia italiani non succede né se ci si presenta direttamente nel punto vendita né se ci si affida all'e commerce di questi punti vendita e poi il negozio provvede a spedire al capitato non mal capitato il prodotto ricercato due parole su foto ottica cavour allora foto ottica cavour è stata fondata da gianni di benedetto come dice lui circa 40 natali fa ma gianni di benedetto a sua volta ha una ventina di natali alle spalle durante le quali su milano ha lavorato nel mondo della fotografia oggi gianni di benedetto è ovviamente presente super partes affiancato in modo quasi paritetico oserei dire da nicolò di benedetto e dal suo esimio fratello federico e da federico di benedetto oltre a i suoi ai suoi colleghi quindi claudio claudio che lavora con noi da anche lui da un 11 12 anni pilastro della fotografia della vendita in italia e poi abbiamo roberto che un giovane ragazzo che faceva scuola di fotografia adesso lavora con noi quindi largo le nuove leve e maurizio e giampaolo che sono gli altri due collaboratori che abbiamo sia per fine art perché per quanto riguarda post produzione e tutto il resto ok allora detto questo diciamo che in 40 anni è cambiato tutto quindi siamo passati dal mondo dell'analogico al mondo del digitale siamo passati al mondo dell'analogico è stato affiancato il mondo del digitale ma attualmente attualmente l'analogico non è mai morto né come fotocamere non sono più prodotte però oggi vi daremo prova che di fotocamere usate con garanzia ce ne sono una pletora in giro e chiaramente tutto quello che la produzione di pellicole chimica carte e addirittura anche in granditori e ancora attualmente in produzione solo per il bianco e nero e solo in italia abbiamo qualcosa o come 30 o 40 emulsioni differenti a partire dal formato laica perché così si chiama il formato 24 36 a salire sul formato 120 quindi rolle fix asseblad pentax ma mia e chi piena più le mette fino ad arrivare alle ovviamente pellicole piane bene io però adesso darei la parola all'inclito di cora ora allora di benedetto che ci racconta qualcosa del suo iridescente punto vendita assolutamente io ho fortuna di essere praticamente nato qua dentro quindi ho preso un po le redini di tutto quello che ha fatto mio padre negli anni insieme chiaramente all'aiuto dei miei colleghi stiamo portando avanti un negozio di fotografia oggi in italia che sicuramente non è una cosa semplice visto concorrenza elettronica però sicuramente l'avvento il ritorno della pellicola in una maniera veramente inaspettata da parte di tutti una cosa l'aumento della vendita perché la pellicola non se ne è mai andata usarei non è mai andata però c'è veramente un aumento drastico soprattutto negli ultimi tre anni che fa ben sperare a tutti noi siano come negozio che agli amanti della fotografia pellicola che a chi insegna fotografia esclusivamente a pellicola bianche nero come sottoscritto a tutti c'è un ritorno veramente io rimango colpito quando la gente entra nel mio negozio che adesso dopo magari ve lo faremo vedere abbiamo più o meno ma abbiamo una vetrina piena di rulline la gente fa ma come rullini ci sono ancora non erano non le producevano più cosa che era fallita quindi c'è tanta un bani informazione negozi come noi e le persone come gerardo sicuramente fan sì che il mondo della pellicola dell'analogico rimanga vivo e sempre più vivo anzi è in fortissima crescita soprattutto nei ragazzi diciamo giovani le nuove leve io dico sempre i millenials amano la fotografia analogica forse perché non l'hanno mai vissuta e quindi vero io li vedo quando entrano da me rimangono veramente stupiti quando li fai vedere come solo queste macchine qua che abbiamo qua davanti a noi che siamo diciamo stupefatti anche se non si drogano sono fatti di fotografia tra l'altro un inciso giusto per la serie l'aspettativa di vita della pellicola per i cento anni della frank idee che frank idee che sono i fondatori di rolleflex nomi di battesimo polen reynold rolle per esempio ha presentato questa nuova pellicola straordinaria su base di triacetato è una pellicola che può essere esposta o a 320 o 640 o a 1600 iso chiaramente sviluppata con il rolle super green c'è un video apposta sul mio canale youtube ma il fatto che in questo momento non solo si continuano a produrre le pellicole ma ci sono anche delle nuove pellicole come questa questo è un caso rolle peraltro non è un caso perché in questo momento ha 11 emulsioni solo bianche nero a catalogo più il colore vuol dire che voglio dire il mercato dell'argentico l'aspettativa di vita e del consumabile e delle fotocamere è piuttosto ampio diciamo che per l'aspettativa di vita del consumabile è un problema diciamo di break even industriale l'aspettativa di vita invece delle fotocamere il buon nicolò non può chiamare un'azienda come laica per esempio e ordinare 20 laica terza f 20 laica m3 e 20 laica r4 troppo non più o esatto purtroppo non più però ci sono negozi come foto ottica cavour che proprio per il fatto che se sono sulla piazza da 40 anni vuol dire che qualcosa di buono hanno fatto hanno la possibilità non è soltanto foto ottica cavour ma sicuramente foto ottica cavour su laica lasciatemelo dire diciamolo a livello nazionale è un riferimento la possibilità lui ha bisogno di ritirare il materiale da privati che decidono per 350 mila motivi tutti sbagliati assolutamente ma io vendere materiale chi viene da me a cambiare una macchina pellicola vendermi una macchina pellicola io la prima cosa viene messo alla porta è sicuro che la vuole vendere che le tornerà voglia mi fa no guarda la tengo lì e noi ovviamente la compriamo perché è il nostro lavoro poi magari dopo due settimane se la ricomprano quello è capitato più spesso magari due settimane no però gli ritorna sempre la voglia è un po' come la storia di elisabeth taylor e del e di richard barton che si sono sposati divorziati un quarto un quattro cinque volte di fila mi sono sempre chiesto se hanno riutilizzato almeno le fedi non voglio dire i bouquet che sono appassiti o se per ogni matrimonio sono comprati anche le no non avevano di questi problemi bene per entrare a questo punto nel dettaglio allora la prima laica è stata immaginata da oscar barnack ai primi del novecento nel 1911 ed è stata cucita letteralmente pur essendo di ottone intorno alla pellicola cinematografica che è una pellicola che scorre in verticale ha una doppia perforazione perché è una pellicola molto stressata meccanicamente e in fase di ripresa nella cinepresa e in fase di riproduzione nei proiettori oscar barnack ha semplicemente girato di 90 gradi la pellicola 24 per 36 mm l'area utile in altezza erano 24 mm ha deciso che la lunghezza doveva essere 36 mm e così è nato il formato 24 36 mm nel 1911 poi le prime laica e qui ne abbiamo signore e signori quasi uno dei primi modelli realmente venduto sul mercato questo non è una zero o una prova tecnica di trasmissione le prime un po' perché ci sono state un paio di guerricciole intestine come dice il mio gastroenterologo e un po' per altri motivi sono state presentate nella primavera nel 1925 durante la fiera della primavera di Lipsia dove sono state messe diciamo presentate un 200 esemplari che sono andati a ruba conoscendo i tedeschi le hanno pagate anche se sono andate a ruba comunque Niccolò in questo momento ha tra le mani una leica prima questo qui diciamo il primo modello commerciale prodotto su macchina 24 x 36 proprio in assoluto non solo di laica appunto come diceva gerardo stato il formato laica e questa è la prima macchina venduta in commercio quindi semplicissimo oggettino splendido piccolissimo questa è una macchina del 1930 quindi 29 è solo da 90 anni che funziona perfettamente queste macchine qui come potete vedere la peculiarità di questa macchina qui sono secondo me le dimensioni che è una roba pazzesca compatta più piccola di un telefono a oggi no dato che tutti diciamo il telefonino è comodo perché è piccolo questo qui volendo non ho taschini ma volendo è veramente compatta perché è vero anche che nel corso degli anni e nel mondo vite prima e poi nel mondo m lasciamo stare il mondo r perché è un'altra cosa comunque le macchine laica come dimensioni soprattutto come profondità si sono ingrandite questa grazie anche all'elma rientrante era veramente la cosiddetta foto piccola assolutamente da qui allora l'unica cosa di questa macchina qui che non potevamo cambiare l'obiettivo un'ottica fissa ok e quindi messa a fuoco a stima non avendo nessun tipo di telemetro che viene inventato più tardi intorno al 1932 cosa che era macchina abbastanza unica questa qui tenete conto è la macchina 1897 quindi la 1897esima laica prodotta nella sua storia ok dopo questa macchina qui la incredibile fa il grande passo laica diciamo grande passo per l'epoca e produce una laica dove possiamo andare a cambiare l'obiettivo ecco un piccolo inciso non come dente volare canino premorale attenzione perché il discorso della macchina con la focale che non poteva essere cambiata in realtà era la norma nel novecento non dimentichiamo che rolleflex per esempio non ha mai avuto la possibilità franche idee che non hanno mai dato la possibilità al proprio prodotto di fare una macchina con le ottiche intercambiabili a dire che nel novecento la gente che forse aveva forse non dico una modesta sicuramente non aveva diciamo un'economia come quella che c'era o scena il terzo millennio lavoravano tutti con 50 mm su 24 36 e con 80 mm su 6x6 e si adattavano loro alla realtà della spartanità del prodotto anziché come oggi tra zoom ottiche intercambiabili eccetera invece adattare alla realtà diciamo al fatto che il prodotto è molto d'utile quindi queste sono anche fotocamere che usate da professionisti del novecento oggi anche da un appassionato sono quelle con cui tu fai la vera scuola di vita la vera scuola di fotografia perché hai la messa a fuoco a stima non puoi cambiare l'obiettivo esposimetro incorporato lasciamo perdere ovviamente quindi o impari a fotografare o non esce fuori un santo nulla ovviamente aveva bisogno di tanta luce queste macchine qui ovviamente perché come insegna buongerardo le pellicole all'epoca avevano delle sensibilità molto molto basse assolutamente quindi macchine da usare però il successo a parer mio incredibile di queste macchine qua che erano facili da usare quindi è una macchina tempi e diaframmi tempi diaframmi stop io la mia carica il mio diaframma non effettivamente non era molto comodo cambiarlo però lo cambiavamo in questo non dimentichiamo che questo è il mar 5 cm perché si chiamavano così f3 5 rientrante veniva utilizzato dei fotografi non questo che non era non poteva essere tolto dalla fotocamera ma sull'altra che nicolò ha presentato veniva svitato che questo montato sull'igranditore c'era un adattatore da tattatore apposta di laica originale laica per far trasmergare la ghiera dei diaframmi sul barilotto esterno e con l'elma da ripresa si facevano anche le stampe perché una volta come dire non c'era medicina per tutti quindi era già un miracolo avere una fotocamera per un professionista di un certo lignaggio e magari non aveva i soldi per comprarsi anche l'obiettivo per stampare perché poi la morte anzi la vita era la stampa non era certo solo la pellicola e quindi questi sono obiettivi utilizzati anche per stampare nonostante poi lights abbia prodotto anche obiettivi specifici da ingrandimento abbia prodotto gli straordinari focomat ingranditori meccanici autofocus anche qua lasciamo perdere perché immaginare un ingranditore autofocus meccanico è qualcosa che va al di là del bene del male e comunque insomma questo è il mondo laica questa non è una onlus giusto corretto anche se sono delle brave persone loro comprano e vendono come fa qualunque commerciante quindi io non ti chiedo neanche i prezzi della 1894 fuga da new york li chiederò a jenna plinski ma se uno adesso volesse acquistare acquistare una laica a vite a ottiche intercambiabili allora lì svariamo svariamo molto dal modello ovviamente queste qui sono macchine molto particolari da collezione da collezione volendo uno può usare ovviamente no sorprendi carico metto la mia pellicola non è la cosa più semplice al mondo mette la pellicola però come tutte le cose si imparano due o tre volte un po come l'amore platonico è platonico ma lo puoi usare insomma benissimo perfetto e queste qui essendo macchine abbastanza particolari comunque laica poi produce una macchina cominciamo a mettere il telemetro sulle fotocamere ok quindi la laica seconda poi nasce la laica terza poi ci sono tantissime variabili che poi se verrete a trovarmi vorrete approfondire sicuramente qui c'è un po tutta la storia ad oggi abbiamo le macchine diciamo dalla prima alle ultimissime digitali m10 comunque tornando alla domanda di gerardo una macchina una terza f una seconda f comunque sono macchine con telemetro questa macchina qui ha la peculiarità di avere due praticamente mirini uno il telemetro l'altro il mirino ok risulta molto più semplice poter far foto rispetto a queste macchine qui ovviamente il telemetro molto piccolino però c'è tempi lunghi esistono molto tante cose piccoline uno se ne deve fare una ragione tra parentesi importante che ci siano però peculiarità di questa macchina qui che sono macchine manuale meccaniche questa è un secondo e oggi questa è la macchina degli anni 40 la macchina degli anni 40 quindi dopo 80 anni secondo di pose ancora così preciso esatto mi rendo qui oggi non è stata ancora revisionata però ci sono ancora fortunatamente persone che possono metterci mano essendo macchine manuale meccaniche problemi non ne avremo questa è una macchina d'uso è una macchina sì d'uso diciamo un pochettino bella per essere da d'uso però è una laica che siamo intorno ai 700 800 euro arriviamo anche in base all'obiettivo il corpo macchina attenzione con questo qui in realtà macchina con obiettivo vabbè allora grazie la compro vedete vedete come poi dicono che vedete che sanno sanno comprare ma sanno anche bene bene la compro quindi 800 euro con questo ridente questo qua un summit a 5 centimetri 1.2 quindi per l'epoca ultra luminoso collassabile che non c'entra niente col collasso quando stai al sole eccetera e se notate comunque effettivamente le dimensioni cominciano comunque diventare ingravescenti dovete sapere che qualche giorno fa in questo punto vendita è stata venduta una miu seconda di olympus imballata in scatolata con 17 garanzie differenti nuova a 300 euro europei una macchina che 15 anni fa costava 80 mila lire italiane ora una laica con 60 70 anni di storia alle spalle a 800 e passa euro con l'obiettivo direi che non c'è confronto nonostante io adori le miu le point and shoot che adesso vanno molto di moda peraltro è un po in tesciuto con un autofocus è possibile l'esposimetro mettono in modalità spot e weatherproof eccetera comunque è comunque senza offesa un ridente pezzo di plastica prodotto in 8 o 9 milioni di esemplari mentre invece questa è una macchina prodotta in un numero microscopico di esemplare rispetto alla miu è una macchina che ha 60 anni di storia alle spalle e funziona ancora perfettamente ok quindi quando quando facciamo il confronto tra una macchina da 300 euro di 15 anni fa è una laica vite l'uso ma anche troviamo anche a 5 600 euro in base all'obiettivo è perché anche con base all'obiettivo ok su mitra un suo micro variano i prezzi comunque con 500 euro una laica vite con l'obiettivo come primo prezzo sicuramente la si trova e è ovvio che il valore intrinseco dell'oggetto non è paragolami non l'impus mio non siamo diciamo noi esagerati però era una macchina praticamente nuova e il mercato da gerardi esagerati negli anni cinquanta succede una cosa straordinaria atto laica abbandona il passo a vite nasce nicolò di benedetto non nasce gerardo buono ancora bene e nasce la laica m3 ok buono ancora bene e nasce il nostro corso di benedetto non nasce il nostro corso di ok m3 quindi bayonetta bayonetta diciamo la regina finalmente in un solo mirino si controlla sia l'inquadratura che il telemetro e all'interno del mirino grazie le cornicette è possibile anche verificare su alcuni obiettivi la corretta o angolo di campo inquadratura eccetera esatto previsto il controllo della parallasse e qui chiaramente sulla e che essendoci la bayonetta prima avevamo sulle ottiche a vite però laica cosa decide giustamente di produrre degli anelli adattatori suoi proprietari prodotti da laica da montare sulle ottiche a vite che venivano montate sulle laica vite e quindi con un semplicissimo anello io potevo montare i miei obiettivi laica vite sulla mia m3 e viceversa e viceversa e questo è molto corretto nei confronti del pubblico diciamo che la bayonetta su e su vite no ok viceversa ok cioè però poti quindi chi aveva già delle ottiche a vite voleva comprare la fotocamera a bayonetta con un ottimo mirino e tutte queste performance in più poteva montarlo non era obbligato a cambiare gli obiettivi diciamo che queste cose sono sono anche delle cortesie per gli ospiti assolutamente esatto come poche altre aziende di cui parleremo la prossima volta hanno fatto nella storia della fotografia di mantenere in tonsa per esempio per decenni una bayonetta proprio per una questione anche di rispetto nei confronti dell'utente del parco ottiche degli utenti quindi questa questa m che in condizioni splendide e tra diciamo molto bella tenere conto che con un zoom questo qui è un su micro no questo qui è un su micro 5 centimetri voglio entrare nel dettaglio poi ci rientraremo nelle prossime puntate questa qui è una macchina che si vende intorno a un migliaio di euro ok con l'obiettivo no questo qui senza obiettivo meglio così non si graffiano le lenti esatto il corpo macchina poi chiaramente ci sono tantissime variabili negli oggetti m soprattutto sono le condizioni d'uso ok ci sono macchine che potrebbero variare di 400 500 euro nonostante sia lo stesso modello e tenete conto che questa qui è una macchina che oggi ha 65 anni perfettamente funzionante e chiaramente qualche segnettino d'usura c'è se la macchina fosse come nuova varrebbe anche 2000 euro ma col botolino e segni d'usura non si sistemano no ok quindi le donne sono più fortunate ma tu proprio perché prima parlavamo dei negozi fisici che hanno anche un e commerce dell'allegro mondo diciamo della rete e della mattanza dei toni ma date delle garanzie non date delle garanzie abbiamo garanzia su tutti i nostri prodotti di un anno sull'usato sull'usato esatto poi sul nuovo invece chiaramente a seconda oggi non è giorno quindi a voi garantite per un anno il prodotto esatto prodotto perfettamente funziona chiaramente qualunque malfunzionamento dovesse avere l'oggetto viene rimandato da noi o venite da noi se lo spedite e noi chiaramente lo ripariamo in garanzia ok che poi è passato un anno una settimana noi non siamo media world o altri negozi siamo un negozio conduzione familiare quindi è il bello che si può parlare anche di queste cose qua no è il vantaggio di comprare anche da un negozio fisico è questo un'altra cosa importante visto che siamo in via fate bene fratelli e poco qui è poco più avanti c'è la regia questura di milano c'è anche da dire un dettaglio che comprando i negozi come fototti cacore dico come ci tengo a dirlo perché fototti cacore non è l'unico punto vendita in italia ci sono ancora dei signori punti vendita in italia in quasi tutti i capologhi di provincia che ci sono da anni e anni e anni sul mercato e che offrono chi più chi meno lo stesso concetto di garanzia affidabilità eccetera eccetera queste sono tutte macchine che comunque oltre che essere controllate a livello tecnico sono controllate anche livello di provenienza assolutamente noi qualunque oggetto compriamo facciamo un documento appunto c'è un registro c'è un registro col documento appunto per per non evitare incauti acquisti o merce rubata la merce rubata capiamo annusiamo subito se la merce rubata quindi voi però invece se uno magari capita su un sito che diciamo di marta perché qualunque non è bello parlare di un qualsivoglia stato che poi sembra che però sicuramente c'è il rischio c'è il rischio dell'incauto acquisto io parlo tanto con le persone che vengono da me che se uno chiaramente viene da me è ovvio che prende molto meno molto meno prende meno che venderla da privato ma di fatto io consiglio addirittura se uno vuole prova a venderla da privato e poi noi la compriamo sempre però è ovvio che io in base un prezzo di vendita che siano sono mille non potrò mai darti 980 noi di base chiaramente diamo una garanzia che mettiamo uno scontrino su cui paghiamo l'iva sul margine è il nostro lavoro chiaramente dobbiamo guadagnarci e diciamo poi diamo la sicurezza e l'esperienza però è bella il cannello di annetto e belle modo rivoltante cioè a prescindere è un oggetto bello in modo rivoltante pesa 72 kg troppo nel posto da tennista però la bellezza è casualmente rivoltante è vero che questo lo strumento il fine della fotografia però c'è strumento è strumento però solo un inciso che volevo un incisivo incisivo allora è chiaro che comprare un negozio più caro per tutte le cose che abbiamo elencato e il discorso comprare da privato mio consiglio personale se effettivamente il prezzo è almeno un 20 per cento più basso rispetto a quello di un negozio può avere senso comprarlo se no fate attenzione tutto qua poi ci sono anche le laica false tra parentesi non dimentichiamo laica false che chiaramente soprattutto su laica vite diciamo che c'è un libro di fatti che dice che più o meno 350 copie di laica sono state provate a fare da russi unione sovietica e da tutto il mondo sono stati anche in giappone hanno provato diciamo che la nicca dico che è una copia però che comunque una gran macchina sembra sembra una laica vita ma è giapponese e giapponese comunque giapponese sono grandi altri maestra produrre macchine fotografiche tedesche giappone quindi questa con che non è mettere con 60 anni allora arriviamo a una delle desiderata perché una delle macchine comunque più cercate in questo momento che secondo me è la m6 grazie 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 6 forse m6 allora questa qui era da cosa mi hanno m4 p m4 p cosa che era macchina come molto interessante e nuova anche questo questo qui è praticamente cosa che una macchina un esemplare praticamente nuovo che ha visto pochissimo rullo ok in a visti veramente pochi di rulli e qua per essere per vedere nuovi rulli ok è praticamente un m6 senza sposimetro quindi andiamo a risparmiare sicuramente sull'acquisto della macchina che questa come dicevo prima in base alle condizioni questa è una macchina nuova con scatole tutto a un prezzo sicuramente un pochettino più elevato del normale vi dico anche i numeri così è una macchina che vendiamo intorno ai 1400 euro però tenete quando che la macchina nuova e anche lei ha più o meno 40 è come una macchina nuova nicolò se ti interrompo tu suggerisci comunque di usarla o di metterla nella bella vetrina da chiaramente perché facciamo l'acquisto un m4 p io personalmente la userei perché è una macchina si da collezionismo così si in queste condizioni sì però se la uso tanto meglio tantissima gente che mi chiede a me sei nuove da usare mentre questa qui che è mano gerardo appare il mio in mano già perché è mia questa l'ho prestata perché non ce l'aveva esatto questa qui è forse la m6 più bella in assoluto perché questo qui fa parte di nel 2000 laica decide di smettere di produrre la laica m6 ok fa questa ultima versione siamo difatti a me sei millennial millennium scusate meno un prodotto gli ultimi 2000 pezzi laccata nera e come potete vedere a differenza il bottone di ravvolgimento bottone di ravvolgimento prima avevamo in plastica e viene rimesso come sulla laica m3 come potete vedere no laica m3 abbiamo fatto la stessa cosa e da qui da questa macchina qui nasce poi la laica mp che è una delle pochissime macchine a pellicola ancora in produzione da parte di laica alla carte o proprio volendo c'è nera cromata o se no volendo uno se la può fare alla carta che è chiaro con dei prezzi molto elevati ecco però parliamo anche di prezzi perché insomma l'occasione è una macchina particolare a un prezzo sicuramente molto elevato superiamo quasi praticamente come il valore di un mp però qui parliamo di collezionismo cosa qui sconsiglierei di comprarla per usare ecco invece se uno vuole comprare una laica mp nuova da te la può ordinare una macchina ce l'abbiamo praticamente sempre in ordine ci vogliono più o meno un tra quattro mesi per averlo ok ne qua e siamo intorno a 4.500 euro ok un prodotto nuovo ok ok questa qui più o meno il prezzo più o meno è quello però qui parliamo di collezionismo ok mentre per un m6 ad oggi mercato di m6 purtroppo cioè purtroppo per fortuna vediamo da diversi punti si è alzato molto forse prima era troppo basso perché se per teniamo conto che non laica mp che fa la stessa cosa cosa 4.500 euro un m6 fino a due anni fa tenuta molto bene non superava i mille sette mille otto oggi lo stesso prodotto nelle stesse medesime condizioni siamo arrivati a 2.500 euro perché perché mi fa la bella domanda qua però adesso ti do una risposta secondo il mio parere è certo che la pellicola è tornata in modo incredibile e la gente conosce sempre di più questi oggetti qua soprattutto i ragazzi giovani che magari laica chi non è appassionato di fotografia non sapeva neanche cos'era però uno entra nel mondo laica e si innamora io ho tanta gente dice ma laica perché poi la provano e mi dicono effettivamente dicono una volta che provo un'ottica m non riesco a tornare indietro perché ha una qualità di costruzione poi fondamentalmente la qualità del vetro che viene usato in queste lenti che è unico al mondo poi se voi potete venire qua noi diamo anche la possibilità di venire qua vi spieghiamo volete farvi un rullo uscite con noi se ti prendi una bella m6 ti fai un rullo te la spieghiamo e vedi che come funziona cosa con la in queste cose ovviamente non si possono fare e qui con il quid in più e tra qualche giorno settimana mese anno secolo e ci sarà anche la possibilità di uscire provare la macchina e avere il rullo sviluppato in dieci minuti dal sottoscritto assolutamente gerardo a parer mio una fonte molto importante per chi vuole imparare veramente a scattare analogico perché aveva un pozzo di conoscenza ma è tra i primi in italia sicuramente il conoscitore di pellicola di macchine fotografiche di fotografia in generale e poi oltre a questo è bravissimo insegnare grazie io amo amo la fotografia sostanzialmente questo è il succo a volte parlo un po troppo lo sapete verbal il bello è anche quello no soliti sospetti stare con lui io lo conosco da quando ero un bambino è sempre affascinante sentirlo parlare ci sono dei bellissimi tappi comunque air plug per le orecchie della 3m per le quali io posso continuare a parlare e la gente annoisce e non sente assolutamente che cosa dico a prescindere però sicuramente è un pozzo di conoscenza che vi aiuterà sicuramente in questi due anni i prezzi comunque del buon usato garantito sono praticamente raddoppiati lo dico io che sono chiaramente nel campo sono impazziti in realtà però questo cosa vuol dire che c'è sempre più gente che vuole fotografare a pellicola fotografare a pellicola con qualità e il discorso appunto di comprare in un negozio che c'hai sono macchine garantite anche a noi è capitato di avere chiaramente di vendere delle macchine con dei piccoli problemi magari come infiltrazioni di luci di cui non ce ne avevamo accorti viene portata qua in una settimana viene riconsegnata una macchina perfettamente funzionante ma a coloro che dicono beh allora insomma mi metto sul fiume aspetto che passi il cadavere del mio nemico secondo te nei prossimi due anni i prezzi cosa faranno stabili in salita in discesa allora vedendo a parer mio potrebbero aumentare ancora fino a un certo limite accattate villa quindi non voglio chiaramente fare il commerciante perché sì ovviamente sono commerciante però lo sono purtroppo è bravo però però vi dico che non scenderanno questo ve lo posso mettere per iscritto perché appunto ripeto c'è sempre più gente che scatta a pellicola si appassiona sempre di più e chiaramente bei prezzi vanno vedo solo asserva da anche asserva aumentata del 100 per cento negli ultimi due anni però qui stiamo parlando anche di macchine usate io adesso non ho listini diciamo degli anni 60 ma io ho come la netta sensazione che una m3 negli anni 60 l'uova non è che costasse poi così meno di una m3 usata nel terzo millennio e se usate in queste condizioni in realtà in usata in usata di fatto il vantaggio anche di laica io dico a tante persone vuoi entrare nel mondo laica ovvio prendere un m3 spendi mille due mille tre mille e cinque con l'obiettivo la usi m3 mille tre m4 mille quattro m5 mille cinque infatti per quello che non piace m6 mille 6.000 più o meno più o meno m7 però a parte questo il discorso cos'è compro una macchina spendo mille due mila euro la uso un anno due anni tre anni io ho clienti che comprata mille le ho ricomprata mille cinque ok non succede spesso ovviamente però uno può vedere come un noleggio a quanto voglio io che compro questa qui oggi già da comprare oggi spende mille cinque ma riporta tra due anni è probabile che sicuramente i mille cinque li recupera o magari mille tre io gli do poi su quei 200 euro chiaramente non è neanche un noleggio è quasi un comodato d'uso tra virgolette e sicuramente sull'analogico si può fare questo discorso sul digitale ovviamente no perché c'è un turnover di prodotti nuovi su un investimenti infatti oggi del digitale non parliamo neanche dipinti su un muro esatto anche se però di diciamolo comunque fototti cacavur vende comunque macchine fotografiche digitali no parlando di laica vende sia il nuovo che l'usato di laica digitale assolutamente sì e quindi sicuramente un grosso vantaggio soprattutto anche sugli obiettivi gli obiettivi ecco con uno sforzo inane se io spendendo mille e trecento euro hai detto più l'obiettivo diciamo così mille e cinquecento euro se io spendo mi allora io spendo mille e cinquecento euro e sei euro di una pellicola 36 pose va bene e se io invece voglio fotografare il bianco e nero e per esempio mi prendo una laica q2 monochrome quanto spendo cioè risparmio risparmio in pellicola in maniera importante ma quanto no qual è il prezzo di listino oggi di una q2 monochrome sono 5500 euro ma è parente del 1300 da parte di madre da parte di padre o neanche un po è un po lontano è lontano era giusto per mettere i puntini sull'r ecco diciamo che sicuramente come investimento ovviamente puntini sull'r i due mondi diversi r perché poi voglio dire qui insomma il tempus fugit tempus fugit quindi non dimentichiamo una cosa che non è mai stata compresa in italia che è la laica r che è una macchina straordinaria sia come corpo che come lenti grazie a tutti grazie a tutti ecco parliamo adesso anche di laica r che è una macchina eccezionale come corpo macchine eccezionali gli obiettivi in italia o anche nel mondo non è stata compresa come me lasciamo per un da parte vite ma laica r è una reflex è che era una reflex a tutti gli effetti chiaramente laica vuole entrare nel mondo reflux perché tutte le altre aziende come nikon come canon avevano incominciato a produrre le volle entrare nel mondo reflux volle nel mondo reflux perché il professionista chiaramente aveva bisogno di zoom perché ricordiamoci laica m ha esclusivamente la ottica fisse non esistono zoom quindi anche per foto sportiva era nel tri elmar tra nel tri elmar che è un tri focale realtà che ho tre obiettivi non zoom in uno però è vero ha sempre fatto focale fissi invece abbiamo anche di zoom mentre qui sullaica r abbiamo anche di zoom quindi chi faceva foto sportiva che riportare faceva chi fa chi fa foto e si fa riportare chi fa ritratto aveva bisogno di una macchina che ha bisogno ha bisogno di una macchina imperfetto oggi è imperfetto quindi una laica questa è una r spiana laica r6 con un ridente elmarit 28 2.8 8 cosa qui è una macchina che è una macchina che con 600 euro macchina obiettivo 6 700 euro a seconda appunto delle delle condizioni uno la prende e la usa stesso discorso mantenimento del prezzo leggermente inferiore rispetto a m però c'è comunque un grosso mantenimento del prezzo anche rispetto di altri brand e questa qui tenete conto che laica r6 è come una laica m6 perché la macchina totalmente manuale meccanica le uniche batterie che abbiamo servono esclusivamente per l'esposimetro quindi voi ovunque siate siete potete scattare senza batteria ok che è uno dei più grossi problemi che abbiamo anche a oggi col digitale la batteria beh ma ne abbiamo anche con m7 i problemi della batteria anche con la gente non ha apprezzato la proprietà dei diaframmi su due tempi meccanici e forse non ha apprezzato l'otturatore diciamo ibrido rispetto all'otturatore meccanico qui scusami mi sono perso via un attimo su che prezzo siamo siamo su intorno ai 700 euro macchina con obiettivo 700 euro una laica vesla ai prodotte in germania con obiettivo 28 28 prodotto in germania e deve tener conto che r è venuto qua il proprietario di laica signor capman credo 8 9 anni fa perché avete smesso di produrre r perché costava troppo produrre r che tenete conto che gli schemi ottici di rm su tanti obiettivi sono molti sono uguali però su r abbiamo più vetro quindi la qualità degli obiettivi r è superiore agli obiettivi m e che tanti questa cosa qui non lo capiscono come cosa però li troviamo dei prezzi a un terzo più bassi perché c'è stata la produzione perché comunque sono macchine più grandi più pesanti però oggi se uno vuole entrare nel mondo laica anche con il mondo reflex a questo punto diciamo laica r che quindi anche più semplice perché appunto un mirino reflex anziché un telemetro che magari può essere un pochettino più complicato da utilizzare questa però già un r6 quindi diciamo che è una laica quasi di ultima generazione e c'è anche su r5 r4 un r4 tenete conto che oggi si vendono a 150 euro 150 euro 50 euro che sono vari motivi poi quindi con 150 euro ti compri comunque una r a tutti gli effetti e poi ti scegli gli obiettivi montare un 50 su micron che lo troviamo intorno ai 250 300 euro tenete conto che l'emme che lo stesso schema ottico ne spendiamo 800 900 quindi fate voi un po i calcoli è ovvio che il fascino di m purtroppo impara insomma il concetto è avere vita m r uno fa le sue scelte infatti poi se volete venire qua a provare vedere siamo qui anche per farvi vedere che cose laica insegnarvi senza l'obbligo ovviamente di acquistare diciamo che una volta mi hanno insegnato che una volta nel negozio di fotografia uno andava chiedeva il negoziante praticamente ti diceva che cosa faceva per per te cos'era meglio per te in quel momento lì noi cerchiamo un po di fare la stessa cosa con i ragazzi chiaramente quelli un po più giovani che si è vicino alla fotografia ai signori diciamo appassionati come possono essere gerardo tante altre persone non c'è bisogno di consigliare o indirizzarli però gli facciamo vedere delle cose oggi a gerardo abbiamo fatto vedere delle cosette abbastanza sono strabuzzato perché abbiamo ne avremo modo di parlare diciamo che siamo un negozio oggi con tanto materiale analogico perfettamente funzionante e noi dalla fotografia dal 1900 oggi facciamo praticamente tutto quindi uno entra qua dentro compro una macchina del 1930 ci mette il rullino lo sviluppiamo se vuole lo stampiamo manualmente se vuole la scannerizzazione di facciare la scansione quindi è un servizio che in pochi fanno in tutta italia saremo 20 30 negozi ormai rimasti perché diciamo che nel negozio di fotografia se non avessimo queste cose usato è analogico se volete imparare a sviluppare stampare da voi che pensi mi esatto gerardo sicuramente faccio anch'io i corsi con gerardo vi dico sinceramente molto bravo come allievo impara perché è veramente una fonte inesoribile di conoscenza fotografica bene signore allora direi questa prima introduzione al punto vendita fototica cavore di fate bene fratelli a milano e al attraverso fototica cavore al mondo laica vite mr mint da collezione in condizioni d'uso finisce qua ci rivedremo sicuramente a breve perché le cose non finiscono qua voi avete visto sei oggetti ma in realtà lui ne ha 7 o 77 non si sa lo scopriremo nella prossima puntata comunque un iridescente saluto a tutti dal vostro e anche dall'ottimo nicolò affettuosissimo iridescente ma soprattutto monocromatico gerardo bonomo alla prossima a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.